La parola concordato preventivo biennale già è esplicativa, nel senso che è un accordo che il fisco fa con i contribuenti in modo da poter almeno per due anni concordare quanti sono le imposte da pagare. Non tutti sono i soggetti interessati al concordato preventivo biennale, però è la maggior parte dei contribuenti italiani con partita IVA e perciò tutti coloro che potenzialmente sono soggetti ad ISA. Gli ISA sono gli indicatori sintetici di affidabilità che hanno sostituito i vecchi studi di settore per capirsi. Tutti coloro che sono soggetti a questi ISA, parliamo dei contribuenti che hanno volumi di affari fino a vecchi 10 miliardi di lire, 5 milioni 160 mila euro circa, questi potranno aderire a una proposta che l'agenzia delle entrate farà. È chiaro che dal punto di vista pratico saranno i consulenti tributari, per chi si rivolge a ConfCommercio Vicenza, saranno i nostri consulenti che assistono nell'elaborazione dei dati contabili, i nostri associati, a chiamare i contribuenti e a spiegare che l'agenzia delle entrate ha messo a disposizione un particolare software per capire di cosa si tratta. Il software sarà a disposizione nell'anno 2024, dopo il 15 giugno, e valuterà qual è l'importo delle imposte dovute dai contribuenti. Pertanto sarà possibile già avere una idea di quello che è la proposta dell'ufficio e il contribuente, chiaramente assistito dai propri consulenti, deciderà entro la presentazione delle dichiarazioni di redditi, che quest'anno sarà il 15 ottobre 2024, se aderire o meno. Se converrà, se vorrà aderire, il contribuente nell'anno 2024, cosa unica nel nostro ordinamento tributario, dovrà pagare il saldo dell'imposto di due anni. Perciò pagherà sia il saldo del 2023 entro il mese di luglio, e pagherà il saldo dell'anno 2024 entro il mese di novembre. Per ogni ulteriore informazione e chiarimento, gli uffici di Commercio Vicenza e delle segreterie mandamentali sono a disposizione, come sempre, degli associati.